Le scuole in Puglia hanno riaperto, ma a Melendugno la situazione è stata paradossale. Neanche un alunno in aula. L'edificio dell'istituto comprensivo, Rinaturante, è rimasto desolatamente vuoto. Si è parlato a lungo negli ultimi giorni della scelta, lasciato ai genitori, sul se far frequentare la scuola in presenza ai propri figli o restare con la didattica a distanza, nonostante le mille difficoltà previste. Nella cittadina salentina, famosa per un tratto di costa tra i più belli d'Italia, la risposta è stata chiarissima. Tutti a casa, in dad. C'è stupore anche da parte della dirigente, Annarita Carati. Non mi aspettavo questa adesione totale alla didattica a distanza, dichiara Lanza, anche se gli eventi delle ultime ore erano state sentinella di questa scelta. Probabilmente i genitori hanno scelto di tenere i figli a casa, anche perché in questi mesi abbiamo implementato il sistema di didattica a distanza, che permette comunque di garantire il diritto allo studio. Così come prevede la norma, gli unici assenti saranno quelli che non seguiranno neppure a distanza. Per il resto l'assenza non è contemplata. Ma la dirigente assicura, quando volete, queste porte rimarranno aperte. Aperte e vuote, ma a Melendugno 750 alunni hanno scelto la didattica a distanza e la scuola resta sia aperta, ma vuota.